Rita Mattei è la nuova Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano. La rappresentante della Lega Salvini Alto Adige Südtirol è stata eletta con 19 voti nella sessione di lavori di maggio al previsto cambio di metà legislatura con il passaggio del testimone dal gruppo linguistico tedesco a quello italiano. Josef Nogler, SVPE Presidente fino a quel momento e molto apprezzato in quel ruolo come testimoniato da diversi consiglieri e consigliere intervenuti è stato eletto Vice Presidente alla seconda votazione. Confermato con 22 voti come Vice Presidente di Lingua Ladina Manfred Vallazza, pure della SVP. L'elezione è stata l'ultimo atto di una sessione iniziata come sempre con l'informativa del Presidente della provincia Compatcher sulla situazione epidemiologica relativa al Covid-19. Ha spiegato che il trend è stabile e l'incidenza settimanale in leggera diminuzione tra gli 80 e i 100 casi. A fronte delle aperture sono le vaccinazioni con una quota molto alta per gli over 80 e categorie a rischio che aiutano a contenere i contagi. I consiglieri hanno invitato a considerare anche l'immunità naturale, chiesto informazioni sulla libertà di movimento in Europa e sollecitato a non introdurre disposizioni che limitassero la competitività dell'Alto Adige a livello turistico. Compatcher ha anche riferito in merito all'impugnazione della legge sui ristori per 500 milioni di euro. Il Governo non poteva farne a meno per autotutelarsi, ha detto, ma era disponibile al confronto su una rateizzazione delle cifre dovute alla provincia e sulla sospensione dei pagamenti da parte di quest'ultima. Delle proposte delle opposizioni sono state approvate quella di Südtirol e Freiheit per istituire una commissione consigliare sul tema di stipendi e pensioni dei rappresentanti politici, quella del Movimento 5 Stelle per introdurre semplificazioni della disciplina dell'Ecobonus 110%, quella del Gruppo Verde ed SVP perché sia indicata la provenienza dei prodotti di origine animale nelle mense e nei ristoranti, quella dell'SVP a tutela e sviluppo di una silvicoltura sostenibile. Durante la sessione sono intervenute anche la consigliera di parità Michela Morandini e la garante per l'infanzia e l'adolescenza Daniela Höller. Presentando le rispettive relazioni sull'attività 2020, hanno testimoniato l'influenza della pandemia sui temi trattati. Dei 570 casi presi in carico da Morandini, molti riguardavano la conciliazione famiglia-lavoro a fronte della chiusura delle scuole, mentre Höller, il cui ufficio ha aperto 629 nuovi fascicoli, ha rilevato che tale chiusura ha comportato una sfida per tutti gli alunni e le alunne, ma in particolare per quelli con una disabilità di famiglie svantaggiate o con background migratorio.